Buongiorno, bentornate da scuola, super affamatissime, avete mangiato niente oggi perché c'erano i ravioli? Non ho mangiato! Li hai mangiati? Ah, meno male, ti sono piaciuti allora! Domani ci sono le lasagne! Domani ci sono le lasagne, sì, sei contenta? Allora, dove andiamo adesso per la primissima volta e speriamo che vada bene? Intendo a patinare! Andiamo a patinare dove? Sul? Ghiaccio! Yes, tu sei un po' preoccupata, vero? Un pochino, però ti danno il pinguino che è una struttura per poterti tenere e non cadere Poi se prendi confidenza lo puoi togliere, credo, non lo so Quindi, mi raccomando, anche te Vanessa, prudenza Ma ci sono le cose dove ti puoi appendere? Attaccare, non appendere, non sei una cimia, eh? Cioè, ci sono le iane come nelle foreste per saltare da un'albero all'altro Mi raccomando Vanessa, non fare quella che è capace di andare perché non ci sei mai andata Quindi anche se ti senti sicura, bisogna sempre avere un pochino di paura, eh? Massima prudenza, finite la merenda, intanto andiamo in centro, ok? D'accordo? Siamo arrivati Andiamo Ma? Cosa c'è, Nastasia? Non vuoi farlo? Perché, amore? Non avere paura Adesso andiamo a vedere come funziona, ok? Magari prendi coraggio, dai, su! Non mi decido Certo che devi decidere tu, mica posso decidere io per te Adesso chiediamo come funziona, va bene? Sì E se poi non vuoi farlo, non lo farai Quando ti senti sicura, lo proverai, ok? Brava, Nastasia, che hai deciso di andare Prendi il pinguino Allora, Vane, numero 125, mettiamo dentro le scarpine Amore, sei contenta? Adesso? Sì, sì, che ti metti i pattini Siediti qua sulla panca Ti stavo dicendo prima, se dovessi cadere, guardami Stai attento a dove metti le mani Perché questi qua Queste sono lame Ti hai sentita cosa ho detto? Ti tagli, eh? Ok Mettiti con le manine sul pinguino e vai Non so, ho paura Prova, dai Riesci? Vane Tieniti, eh, che non l'hai mai fatto, ok? Prendi confidenza È difficile, eh? Dov'è Ali? Ali è andata Vuoi seguire anche il tuo amore? Eh? Guarda Ma come va? Mamma Come va? Sei bravissima Sua sorella è ancora qui Allora, Manessa Dai Prendi un po' di coraggio Beh Allora, ascolta Se hai paura o no No, non ho paura Non hai paura Se cani ti rialzi Amore mio Mi piace, Ani Hai visto che non volevi Vediamo Bravissima È difficile Pensavi fosse più semplice Oh, hanno acceso le luci Che bello Finalmente hanno acceso le luci Vane Brava Hai visto Hanno anche acceso le luci Crediamo anche meglio Tutto ok, Ani? Hai bisogno? Boh, Anastasia si è super lanciata Non voleva andare Invece Non la ferma più nessuno Bravissima, amore Brava, amore mio Abbi, ma vi siete già stufate? Eh? Ti siete stancate? Ani attenta senza pinguino, eh? Ani, tieniti qua, eh? Ti la faccio Però Io ho paura Però ti devi stare vicino a un perimetro Ti devi saper tenere Brava Che ti tieni in equilibrio Se vuoi provare a pattinare senza Puoi farlo Però stai attenta, eh? Pezzettino Da qui a lì Vicino a questo Come fa Vanessa? Boh, si sono scambiate di ruolo Ha ripreso in mano il suo pinguino Perché non provi senza? Non te la senti? Non ho mai capito Eh? Non sono mai capito Perché hai il pinguino? Eh, ma riesco anche senza Certo, amore Ma sei bravissima, infatti, eh? Dai, Vanessa Allora, vieni qua Voglio un ballo Coreografico Con i pattini sul ghiaccio Wow Che danza Robina Vai col pinguino Che c'è Anastasia? Anastasia si sta facendo tutta la pista Sul bordo Ani, sei stata bravissima Ho visto, amore Ti sei stata tutta la pista Io non sono mai capito Bravissima Stavo pensando la stessa cosa Non siete mai cadute Attenzione, ragazzi Anastasia Ha appena messo le mani Ma sta andando senza, eh Bravissima Ani, bravissima Senza mani Vanessa, attenta una gira volta No? Non la tentiamo più Spera È stata bene una volta Faccio un seggio di giù Steggio di giù Va bene Wow E intanto arriva Anastasia Bravissima, amore Brava Ti siete scaldate, eh Basta Bimbe Ma quanto siete state brave Anastasia Non sei mai caduta Una volta Non volevi andare Invece sei andata Ti sei divertita Sì Vuoi tornarci? Sì Magari ci torniamo, eh Un altro pomeriggio Va bene Complimenti veramente Perché è la prima volta Che mettevate ai piedi Dei pattini Per andare sulla pista di ghiaccio Sai ti sei divertita? Eh? E poi più prendi confidenza Più fai cose un po' particolari Vero? Già ci stavi provando Alla fine della serata Infatti Poi io non sono mai caduta Neanche con i miei Con i più Non è senso Sei stata bravissima Andiamo a casa Dai che tu devi studiare Tornati a casa Vanessa vai a studiare Perché devi studiare Allora Ascolta Anastasia Tra poco Tra poco arriva una mia amica Che vi deve portare Un pensierino Per i vostri compleanni Anche per te Va bene? Vanessa prendi storie E studia 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 Ho fatto così Prima poi mi sono rialzata Ma mi sono rialzata Sei stata bravissima E anche te sei stata molto brava Bastava prendere un po' di confidenza Tu non volevi nemmeno andare Poi invece non volevi più uscire Vuoi tornare? Sì Ma usi ancora il pinguino? Eh no No Puoi attivarlo No mai più Mai più Mai più Va bene Dai io vado a fare un paio di cose E aspettiamo che arriva la Laura Ok? Comunque Ani va bene Hai un grande entusiasmo Per quello che hai fatto oggi Adesso io però Devo andare a fare un paio di cose Perché sta arrivando la mia amica Anzi Brava Me lo pieghi per favore? Posso fare un primo Un balletto Ancora Dai Ani Sì Sì Quello che vi porta Va bene Mi si chiama Laura Dovete stare lì Quando ti chiamo io Tu scendi Pille Potete scendere Però quando arrivate giù Magari dopo che avete fatto i gradini Giratevi di spalle Aspetta Vero fanno i gradini Ok Giratevi di spalle Venite 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 Guardate un po' Che bello Bravissime Siete andate Sul vostro Bravissime Dite grazie alla zia Laura Mi piace Ma sono stupendi Avete trovato il vostro compagno Per dormire la sera Quanto sono carini Mamma mia Sono stupendi Perché la zia Ha visto il nostro video Di quando siamo andati al toys E ha visto che volevate I pupazzi Contente Ora lo stai giocando Con il tuo orsocchiottone Ma è un orso Sì Ma quanto è bello Eh Bello Gli hai dato un nome Lo chiamiamo come c'è scritto Sull'etichetta Eh Non mi rimaxe Fax Fix Fix forse Max Lo chiamiamo Max Sei sicura Perché mi sa che Vanessa Vorrà chiamare Max Il suo Perché lei È il suo nome preferito Max Va bene Max 1 e Max 2 Quanto è stata gentile Amore Ti è piaciuto? Sì Eh Ma come nome? Magari lei spacca No Max Spicchi Vabbè Decidete il nome che volete Non litigate Tu Max 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 V V V V V di Vanessa Sì Vabbè ma non sono nomi belli Dai Decidete poi Max No io Max Io Max Beh anche Fix è bello Anche Fix è bello Comunque stanotte andrete a dormire con loro Ma ci stanno nel letto secondo voi Però possiamo provare Adesso ceniamo Poi andiamo a farla run E vediamo se Max V e Max A Ci staranno nel letto con noi I nostri bucciolini Ok Ok bimbe È giunta l'ora di andare a dormire Ma quanto sono belli Eccola No ma sono troppo belli Ma ci state tutti a quattro dentro il letto Vabbè è uguale È uguale Sì è la stessa cosa È come essere in due Effettivamente Che senso ha fare i letti matrimoniali Quando in due ci state in quattro In quattro potreste stare anche in un solo lettino Anostante la letta Dai allora bimbe Ascoltatemi Cosa ne pensate di questa giornata Abbiamo pattinato su ghiaccio Vi siete divertite? Un sacco Va bene ragazzi Diamo la buonanotte Perché adesso è l'ora di andare avanti Il mio è un orso Il tuo è un orso Il mio è il gigante Veramente Ciao cucciolini Guardate ragazzi Guardate Ma quanto sono bello Ma ne facciamo ridere il pacchino Sono stupendi Io li adoro Cucciolini e cucciolini Iscrivetevi al canale A te la campanella E lasciate un bel like In questo video Ciao Ciao a tutti 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 Ciao a tutti